Nel girone A, K.O. è la prima della classe Barisotta per la gioia di chi insegue. La leader del girone ha perso 4-1 con il Celtic Domo, ora secondo due punti dalla vetta insieme alla Robaduccia, che ha sconfitto 5-2 la Taverna Alpino e al Masera United in postosi 4-0 sull'Oratorio Domo. Stesso risultato con cui la Dinamo Valpiana ha liquidato l'Erculane Omiselle. Nel girone B rimangono appaiate al primo posto Divin Porcello e Barirene, che si sono sbarazzate rispettivamente della Noga per 6-4 e dell'Arcadias per 5-4. A tre punti di distanza resistono Real Cruz Nall a segno 9-1 su Real Migianda e la Fulgor Vanzone vittoriosa 2-1 con l'Anzola City Thunder. In calo le Zampine Orna, K.O. 5-0 con il Piazzolla SRL. Nel girone C, giornata all'insegna dei pareggi, il Rumianca viene stoppato sul 4-4 da Rio Cannero, ma il bar San Bernardo di Pazzini non va oltre il 3-3 con il Trafiume e non ne approfitta. Fa peggio il bar Bavara, battuto e raggiunto dal Garboli. Sugli altri campi sorridono San Martin e CSI Gravellona. Regno di Napoli, insuperabile nel girone D, altro giro, altro regalo per la squadra verbanese, 11-3 con il Castiglioni Serramenti e non a vittoria consecutiva. A meno 2 la Cordigliera Andina, che ha sudato per battere il Nebbiono. Calendario, lo scontro diretto per il Primato. Nel girone E, infine, può esultare la Floricoltura Saletti Trafiume, 1-0 con il Pesce d'Oro e sorpasso in classifica. Al secondo posto c'è anche il Living Game, che ha passeggiato 8-2 con lo Sporting Sant'Anna. Terzo gradino del podio per il Frull Fruit Bar, che ha impattato 3-3 con Alcentro. Nel calcio a 5 era in calendario la nonna giornata. Disco verde e marcia ripresa per il Divin Porcello, che ha piegato 10-4 l'aperitivo Bar Mario. A meno 6 ci sono Sporting Cock e i bravi ragazzi, che hanno battuto Bacco e Tabacco e Luzzogno.